Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video reaction Ed è un po' che non facevo video delle reaction Oggi andrò a reagire ai miei short Ho già qui il canale pronto, Gangnatti, siamo in 66 e grazie ragazzi Grazie ragazzi per il vostro sossegno sia su NatiTube che su Gangnatti Oggi andrò a reagire ad alcuni short che ritengo quelli più cringe di sempre Ok, ma prima di iniziare volevo salutare due persone che mi hanno chiesto appunto di salutarle Che si chiamano Cagnonino Rispettoso e Marzia Sorrentino Ciao grandi Ok, direi che possiamo partire con quello che ritengo il più cringe di tutti Ovvero quello di Stranger Things Se fosse Stranger Things vediamo che orrore ho fatto Copyright assoluto Lo sfondo fa proprio cagare come la qualità del video Due secondi già vorrei chiudere il video, ma si può Se fossi Stranger Things proprio Però non è, non sono video da piccolo Io ti parlavano a casa Tutti mi guardavano male Anzitutto ti vesti davvero di merda Cioè quei vestiti sembrano quelli del capolino Aiuto, rega, aiuto E seconda cosa Avete capito? Ride la signorina Ride 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 Se facessi tipo così Oh mio Dio Mio Dio no Ho esagerato niente No, rega, rega, rega Cringe ai livelli assurdi I livelli spaziali Ora vorrei andare a vedere Il primissimo short che ho fatto Che l'ho fatto un giorno che l'ho tornato da scuola Quando ero in ritardo col prof sbagliato Il mio prof fa veramente così E vi giuro che è così Guardiamo Buongiorno ragazzi Buongiorno prof Mio Dio Guardando i short nuovi E questi qua Si vede che sono un pochino evoluti Quindi aprite il libro a pagina 84 Aspetta prof Manca io Manca io Manca io Ben due secondi di ritardo Ben due secondi di ritardo Ben due secondi di ritardo Come potete sotticarlo? Eh? Ma scusi prof Non è un ritardo grave Certo che è grave Che urlo poi Certo che è grave Mi piace Che sento il mio cane? Dammi il diario Ok Ora Questo Questo Cosa l'avevo fatto malissimo Lo suono del telegiornale L'avevo usato nel mio screen Che però non ha funzionato Giornale Madonna Era un capellone Era un fungo Un fungo Il materiale di Peter Scully L'uomo che ha molestato le bambine nel video È tornato purtroppo popolare E adesso In salto Ma andiamo nei negozi Ma adesso ci colleghiamo con Crystal Che è già Crystal è quella che ha fatto meglio Crystal Ci senti? Quasca ma Kissi È sempre Kissi Sì 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 Questo prodotto è tornato sfortunatamente molto famoso Questa non è solo una mancanza di rispetto Nelle vittime e nelle loro famiglie Ma è anche qualcosa di illegale Comprare questo cd Questa è una coppia del cd Di Easy Destruction Ehi Quel DVD lo voglio io Ehi no Questo contenuto è illegale Ebbene La puntata del telegiornale di oggi è terminata qui Arrivederci a tutti Ero tutto cancellato Vabbè Ora Direi ricordare Questo qui Che era quello Tipo Inside Out Pov sono ogni emozione nella mia testa Parte 1 Ci sarà una parte 2 Oh mio Dio Ci avevo messo gli anni a trovare quelle magliette lì Perché non direi una calmata tua razza di idiota Ma perché litigate solo Non è colpa mia Ragazzi non litigate dai Dovete essere gioiosi La vita è bella La felicità è l'unico Perché hai ucciso Gioia Per me stava parlando troppo Oddio Che stucca Paura Dove stai tu? Segui tu Non ho smettato di litigare Scadranno la vocalista Mi ne ho nasconde Aiuto Aiuto Paura Allora Qui diranno Ma che grammatica è Ma l'italiano è proprio Un momento di silenzio per l'italiano No l'ho fatto apposta Perché Essendo che ha paura Non si trova Non si trova il coraggio Cioè Non ha Ha paura e quindi Ha paura e quindi Non usa la grammatica corretta È per quello che l'ho fatto Volevo solo che lo sappiate Che lo sapeva Questo è le ragazze Ragazze nei film C'è un Dragon Ball di sottofondo Sta guardando mio padre Ok Dona le scritte Si vedono tantissimo C'è sempre un difetto In questi short Quello lì mi scopri E poi saranno casi Ehi Dove stai rifatti vedere Tanto più Ti troverò Ah Ti ho trovata Eh Pensavi di salvarti Vieni qui Ok La mia idea era Di far sentire l'urlo Attraverso la porta Solo che L'ho chiesto a mia sorella Di far partire la registrazione Mentre era in bagno Solo che lei Si è seduta sul water E quindi non si è sentito Si doveva attaccare alla porta A farlo sentire Ma Vabbè No rega Questo è super No L'ho chiesto di nuoto Sì Entrate subito nella vasca E fatemi 82 vasche Due con me Oggi fai nuoto Su Muovetevi Su No ma si vengono tantissime perite La scelta Tutti si stan No no ragazzi No 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 Uscite subito dall'acqua Forza Uscite su Che succede Guardate che tra due giorni Abbiamo la gara Io non vi ci mando Vita così eh Oh mio Dio Io sono stanca No 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 Questa parola stanca Non la voglio affatto sentire Quindi torna in acqua insieme ai tuoi compagni E Continua a nuotare Maistruttrice Mi fanno male le braccia Dio santo Allora se sei così stanca Facciamo un giochino Hai presente la ricerca di Memo? Sì Ecco La canzacina di Doi Ah ah Zitta e nuota Zitta e nuota Che pardo questa ragazza Questo è il Ai miei compagni Ha fatto ritardo tantissimo Tipica pubblicità Dello yogurt Mi sono sempre chiesta Quale fosse il vero gusto della vita E poi Ho scoperto un tibia Favoloso Nutriente Con principi attivi Gli sia stato Vitamina attiva Ecco Quale è il vero gusto della vita Attiva Ecco che cosa intende Per uno yogurt Oddio Qui La prova a correggere Buongiorno prof Non dovete fiatare A parte che si è vista la scritta sui capelli Però vabbè Lì ho rotto lo zaino Cioè Ho rotto lo specchiato Che c'era sullo zaino Raga No Corretto Le vostre verifiche Che avete fatto Settimana scorsa Ah e come sono andate Di me Ma come sono Che sale con la meno cringe Inoltre Qualcuno di voi C'era la risata La risata No prof Sto solo dicendo Che No No Ti metto una nota Che mi è stancata Eh prof Non è giusto Zitta Lissia Oddio santo L'ultimo Rega L'ultimo Perché Livelli di cringe Volevo mettere Questo qua Nel telefono Che può parlare Gli è che faccio le foto Scusa Smettile di farti le foto Cioè Voglio dire Cosa sei Una femminuccia Una femminuccia No andiamo Ma mi metti giù È tutto il giorno Che mi hai in mano No La smettila Di guardare youtube Che consuma Tutta la batteria Quindi improvvisato Sto pensando Sono il 10% Perché non mi metti In carica Io sono quasi morto Scusa Attenzione Che sono fragile Posso rompermi Occhio Non farmi cadere Ma che Ma fai Ma cosa Ma si può sapere Perché mi devi cambiare Lo sfondo Il mio pen 3 Ti ho aperto Non puoi installare Quella app Pare sia io Che faccio No raga Ho vinto la lotteria Cosa No 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 Non hai vinto la lotteria Non aprire quella finestra Non aprire quella finestra Non aprire Ecco Non posso vivere con il virus Mi sparo Mi sparo No Mio dio Mio dio Raga Mio dio Rivelli di cringe assurdi Su questo canale Ovviamente pubblicherò ancora Short E quindi Vi invito A iscrivervi Sia su NatiTube Che su Gang Gratti E mettere like A tutti i video E Ciao Ciao